Piacere, noi siamo la compagnia Zec e veniamo dalla Francia, però io sono romano, mi chiamo Nicolò, io sono argentina e mi chiamo Magdalena. Abbiamo creato questa compagnia con la compagnia di circo contemporaneo nel 2019, abbiamo creato il nostro primo spettacolo che si chiama la Wittien Ball che ha girato per tre anni e gira ancora ad oggi e quest'anno è uscito il nostro nuovo spettacolo che si chiama Seguime. In spagnolo sarebbe Seguime. Che significa Seguimi. È uno spettacolo sempre di circo contemporaneo dove c'è prevalentemente dell'acrobatica di coppia, del clown e della musica dal vivo che sono argomenti che ci piace trattare in tutti i nostri spettacoli. In questo spettacolo nello specifico parla di un incontro tra due popolazioni diverse, il popolo aborigeno e un immigrato che si ritrova catapultato in questa terra nuova e quindi la storia parla di questo incontro tra questi due personaggi. È ambientato nei primi anni del novecento quindi cerchiamo di restare un po' coerenti con quello che è stato quel tipo di incontro e tutto questo contornato da quello che è il circo e le discipline che ci ci sono a cuore. Cerchiamo di fare una fusione tra la musica e il circo che non siano separate, quindi fare un po' tutto allo stesso tempo. È una storia un po' diciamo utopica perché il nostro desiderio di come vorremmo che le culture si possano incontrare senza scontrarsi. Grazie. Grazie. Grazie.